5 minuti di crazy Folia, folia amico mio, ma ascolta, il calcio è questo, noi abbiamo lottato per vincere, siamo una squadra forte e per l'anno prossimo il risultato è garantito Ma come ha vissuto il match presidente? Fino a 5 minuti fa stavamo vincendo, che cosa è successo? Io penso a questo, che siamo una grande squadra, fino a 5 minuti prima stavamo vincendo, ma questo è il calcio e nel calcio queste cose accadono Alla fine di questa giornata dobbiamo rimanere forti, sono molto orgoglioso dei miei supporter che sono venuti, sono fiero che siamo qui E che i miei ragazzi abbiano dimostrato che sanno giocare a calcio molto meglio di tante altre squadre Ora si guarda avanti, alla prossima stagione Ma appunto, che cosa accadrà da domani, mister Armstrong? Il mondo va avanti, non c'è alcun cambiamento rispetto a quanto ho stabilito e annunciato ai miei tifosi Insieme si vince e si continua a lottare